Venditalia 2022 continua, ci troviamo allo stand di Esperia Distribuzione Supermatic che per la prima volta espone in modo strutturato qui a Venditalia. Sono quattro anni che non si svolge questa manifestazione e è un gran piacere accogliere Manuel Offridi, responsabile commerciale dell'azienda. Manuel, bentornato. Buonasera Fabio. Buonasera a te e finalmente si ritorna in presenza, senza mascherine, in piena libertà, con grandissimo fermento ed entusiasmo. Sì, finalmente perché c'era voglia di ritornare a partecipare a eventi di questo tipo, la partecipazione che c'è stata ne ha confermato questa appunto voglia e dopo quattro anni anche noi abbiamo deciso di partecipare in collaborazione con le nostre due società a questo evento. Ecco, raccontiamo allora a loro che cosa avete presentato al pubblico del vendi in questa occasione. Tanta roba io direi, vieni un po' più vicino a me, non uscire fuori dal campo della camera, non muoverti, rivolgiti a loro e dedica il meglio di Manuel Offredi per spiegare che cosa avete presentato. Noi come società di rivendita abbiamo cercato di interpretare il nostro ruolo portando delle idee che i produttori hanno sviluppato, abbiamo cercato di portare la nostra interpretazione e presentarle alla nostra clientela. Ovviamente ci abbiamo messo anche un pochettino del nostro, ma la volontà di quest'anno era in particolare proprio di dare delle idee nuove e di portare degli spunti nuovi, non solo agli operatori del vending, ma quest'anno abbiamo cercato di allargare un pochettino le nostre attività anche agli operatori Oreca con macchine dedicate a questo canale specifico. E quindi diamo nello specifico qualche indicazione. Allora, appunto per la parte di Oreca le macchine che abbiamo dietro sono macchine di un produttore specializzato, quindi macchine caffè in grani, è sicuramente una delle attenzioni maggiori che abbiamo messo, che lavorano prevalentemente con latte fresco oltre a tutti i prodotti solubili a completamento della gamma. Quindi macchine da prima colazione, macchine per un servizio d'ufficio moderno. Poi qui abbiamo portato una macchina total touch, anche per chi magari oltre abbiamo fatto questa contrapposizione per mettere in evidenza il sistema classico e tradizionale, con un sistema invece un pochettino, è un po' più moderno. Se vogliamo, con una macchina total touch per chi ama comunicare e utilizzare le immagini oltre alla vetrina. E ancora, i sistemi di filtrazione, i prodotti solubili? Abbiamo dato spazio ovviamente a quello che sono la gamma dei nostri prodotti, in particolare i solubili a marchio Bueno e Demetra, che sono due marchi registrati di proprietà di Esperia, abbiamo portato come detto i prodotti da filtrazione per l'acqua, la collaborazione con Bilt e quindi insomma abbiamo portato i prodotti che normalmente abbiamo all'interno delle nostre aziende nelle varie declinazioni. E allora, per andare ad avere maggiori informazioni su tutto quello che Esperia Distribuzione fornisce al mercato, ormai non solo nella zona di Monza-Brianza, ma direi quasi in tutta Italia, perché voi vi state espandendo e ramificando sempre più sul territorio, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui è possibile scrivere per avere maggiori informazioni e qual è il vostro sito internet per consultare il vostro catalogo? Allora, in questo momento la nostra organizzazione sta iniziando ad allargare il perimetro con la volontà di arrivare a coprire il territorio nazionale e non solo. Siamo ancora un cantiere aperto e ci stiamo organizzando adeguatamente perché il voler fare non necessariamente corrisponde poi con il fare. State crescendo. Esatto, ci stiamo lavorando con grande impegno, stiamo prendendo un po' le misure e attualmente non abbiamo ancora però un sito pronto, è unico. Infatti la presentazione, cioè il fatto che oggi partecipiamo con due marchi è proprio perché ha significato questi lavori in corso e sicuramente stiamo predisponendo una piattaforma per poter chiaramente arrivare direttamente dai clienti, presentare l'intera gamma e chiaramente comunicare in maniera diciamo moderna con tutta la clientela. Diciamo che manca ancora qualche mese a completamento e poi continuerà l'espansione su altre regioni del territorio nazionale fino a coprirlo tutto nell'arco di un po' di tempo, non sappiamo ancora quando. Diciamo che è un work in progress che però vi vede molto molto proattivi e quindi positivi e voi sono certo riuscirete al meglio in questa operazione. E dunque diamo un indirizzo a tutti loro per in ogni caso entrare in contatto con voi Info, Chiocciola, Esperia Info, Chiocciola, Esperia Vending Speria, scusate, Esperia Distribuzione.it Bene, allora l'indirizzo che vedete qui sotto è quello a cui potete scrivere per andare a richiedere maggiori informazioni anche magari sui tempi in cui sarà coperto una parte del territorio che può riguardarvi Manuel, che dire grazie per la collaborazione noi ci rivedremo prossimamente e leggerete prossimamente anche ulteriori informazioni su Esperia Distribuzione, Supermatic e tutto ciò che riguarda il processo di espansione prossimamente su Vending News, la rivista bimestrale della distribuzione automatica e su Vending News.it Manuel, grazie per la collaborazione Grazie a voi Fabio, grazie alla vostra organizzazione